Dalle prime ore di questa mattina, gli agenti della Polizia della Divisione Anticrimine della Questura di Roma stanno eseguendo contemporaneamente all'Infernetto e a Santa Teresa di Gallura, in provincia di Sassari, un sequestro emesso ai sensi della normativa antimafia, finalizzato alla confisca di beni, assetti societari e rapporti finanziari, per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro. Sono riconducibili un imprenditore già attivo nel settore delle costruzioni, operante attraverso familiari prestanome nel settore della ristorazione, in quello immobiliare e nella rivendita di veicoli lussuri. Il provvedimento rientra nell'ambito di una più ampia strategia di contrasto all'accumulazione dei patrimoni illeciti da parte delle consorterie criminali.